Buonasera ragazzi, allora vedremo, vi presento Google Polymer che è una tecnologia sviluppata da Google, nel 2005 ci fu la prima release che era una beta 0,5 e l'anno scorso nel 2006 è stata rilasciata la versione 1, adesso c'è la versione 2 in costruzione ed è scaricabile sempre dal sito di Google Polymer come preview. La mia esperienza è stata con Google Polymer 1 e quindi vi dimostro questa libreria Javascript che serve per creare interfaccia web, quindi si parla solamente di user interface e non di programmazione server. Vabbè, Google Polymer 1, abbiamo detto, è una libreria basata su Javascript ed è simile a React simile ad Angular, però React è di Facebook, Angular è sempre di Google, e Google Polymer implementa l'interfaccia material design che così siete abituati a vedere sui cellulari e da un'interfaccia materiale.